colori arrivano come un'onda di piena e travolgono tutto con irruenza vorticosa avvolgono l'orizzonte e il cielo mescolandosi fluidamente restituiscono e riflettono allegria complice la luce che sembra cambiare e divenire più calda e forte felicemente solare in loro presenza o è forse il contrario ma infine è la percezione che conta soprattutto per il cuore che si scalda e si emoziona riempiendosi di rosso colmandosi di vita grazie